ma allora questi eventi catastrofici hanno impartato sul nostro portafoglio e toro quello che abbiamo creato insieme durante una lunga serie di via vai di video sondaggi lacrime e sangue per noi dai lacrime e sangue non tanto non è che siamo su spartacus comunque vediamo tutto subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati come sempre su questo canale io sono pasquale questo io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore e investitore della porta accanto il portafoglio e toro che abbiamo creato insieme stava andando alla grande fino a qualche tempo fa diciamo a parte alcune posizioni che erano in un leggero rosso era secondo me un treno in corsa ed ero sinceramente molto ma molto soddisfatto del lavoro che avevamo fatto insieme anzi che avevate fatto voi perché avevate scelto voi le aziende per questo portafoglio ma l'ultima volta che lo abbiamo guardato insieme e guardavamo i suoi rendimenti eravamo ben lontani dall'immaginare che ci saremmo trovati in una situazione come quella che sta accadendo adesso dell'ucraina che si sarebbe addizionata poi alla variabile pandemica che in realtà stava andando via via piano piano scemando ci sono da fare alcune considerazioni sul portafoglio però volevo farle dopo averlo guardato assieme perché secondo me tirare giù le somme dopo averne anche guardato il comportamento durante questi eventi può darci sia delle indicazioni sul lavoro che è stato fatto che abbiamo fatto insieme che avete fatto voi e anche sulle aspettative che possiamo avere riguardo a questo portafoglio per cui andiamo al pc a guardare cosa è successo in questo arco temporale poi facciamo le nostre considerazioni ed eccoci qui sulla scremata iniziale del nostro portafoglio assieme di itoro e come possiamo vedere ci sono molte posizioni in verde ma purtroppo il nostro capitale come si può vedere in fondo in basso è in perdita di 7200 dollari questo ci dice che c'è qualche posizione che sicuramente ha dei forti drawdown però andiamo a vedere come si stanno comportando le azioni che stanno a top prima di tutto andiamo a vedere che le aziende che stanno all'inizio della lista quelle in verde sono delle aziende solitamente storiche comunque che vengono considerate particolarmente sicure o comunque vengono precipite come tale abbiamo american express johnson and johnson procter and gamble intel e poi vanno anche ad aggiungersi due aziende diciamo mega cap del nasdaq google e microsoft quella che sta rendendo in più in questo momento è proprio american express che è quasi vicino a un 8 per cento di rendimento e johnson and johnson un 6 e mezzo per cento andiamo a vedere in fondo vediamo che facebook meta platform è quella che sta dando delle performance peggiori forse perché l'abbiamo presa in un momento di massimo splendore poi abbiamo acmr research maraton digital holdings e louis vuitton monne nsi queste sono le ultime quattro posizioni lui vitton ha un meno 11 5 per cento ma facebook ci sorprende tantissimo con quasi un meno 35 per cento si può notare che se non avessimo praticamente le ultime tre non avremmo perdita in questo portafoglio però ovviamente non possiamo basarci solo su questo avendo 20 aziende nel portafoglio questo portafoglio è costruito in maniera tale che dovrebbe perdurare nel tempo nel lungo periodo ovviamente come si può notare in questo breve periodo dalla sua creazione il portafoglio non sta performando come ce l'avamo prefissati per cui bisogna capire e dobbiamo cercare di capire se effettivamente il portafoglio è stato creato bene e per cui si tratta solo di una situazione momentanea o se il portafoglio è stato creato male dal mio punto di vista secondo me avete fatto un buon lavoro ci sono aziende da dividendo ci sono aziende value ci sono aziende growth sono aziende a piccola capitalizzazione aziende europee c'è anche un etf sono state create una serie di posizioni che in linea di massima dovrebbero portarci in un modo o nell'altro a gestire il portafoglio in maniera più tranquilla ed ovviamente in questo contesto storico quelle che stanno subendo le perdite maggiori sono quelle che vengono impattate maggiormente dalla situazione congiunturale quella infattiva ma anche soprattutto quella relativa alle tensioni internazionali che ci sono in questo momento in Ucraina perché ovviamente Louis Vuitton che vende lusso anche agli oligarchi lussi che spendono tantissimi soldi in lusso viene impattata in questo periodo notevolmente dal fatto che non può andare più a vendere prodotti di lusso in quel paese così come ad esempio facebook o comunque tutti i grandi player del mercato possono essere stati impattati da eventuali blocchi da parte delle autorità governative non è detto che queste siano le uniche ragioni non è detto che queste siano le ragioni ma potrebbero comunque aver avuto un impatto non indifferente in questa situazione per quanto riguarda appunto la mia personale percezione e la mia personale idea su questo portafoglio a me sembra ben fatto e penso che nei prossimi 5 10 anni possa effettivamente dare degli ottimi rendimenti è un piccolo etf che ci siamo creati diversificato a modo nostro però come si può vedere appunto in questo momento i rendimenti non ci stanno dando ragione mi piacerebbe capire però cosa ne pensi tu cosa ne pensate voi di questo portafoglio in questo momento se effettivamente è stato impattato solo in maniera momentanea oppure se è un portafoglio che è un po azzoppato e potrebbe incontrare problemi nel lungo periodo ovviamente vi ricordo che questo portafoglio creato sui toro e se qualcuno fosse interessato a utilizzare la piattaforma trovate un link qui sotto in descrizione che a voi non costa niente ma comunque se vi iscrivete col mio link affiliato io dicevo qualcosa aiuta a sostenere il canale ritorniamo alla mia faccione eccoci arrivati alla fine di questo video ricordo che questo portafoglio è creato sulla piattaforma sul broker online i toro e se hai intenzione magari di utilizzare questa piattaforma puoi trovare un link affiliato qui sotto in descrizione a te che non costa niente in più ma aiuti a sostenere questo canale cosa ne pensi dell'evolversi del portafoglio le nostre scelte sono state fatte in maniera corretta per il lungo periodo ti aspettavi o meno questo comportamento e questo andamento dei titoli azionali inseriti e soprattutto fra le aziende che hai scelto che abbiamo scelto insieme pensi che ci siano degli errori siano stati fatti degli errori o per il lungo periodo può essere considerato un ottimo portafoglio ovviamente fammi sapere cosa ne pensi delle considerazioni che ho fatto io durante l'analisi dei rendimenti perché mi piacerebbe sapere soprattutto quello che ne pensi tu come sempre se questo contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un'azione molto semplice ma molto prolifica per me che è il pollice in in su che aiuta a capire l'algoritmo di youtube che io sono qui nei paraggi se poi sei nuovo sul canale e se non vuoi perderti nessun contenuto successivo a questo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun nuovo contenuto che andrò a pubblicare in seguito bene siamo arrivati anche alla fine di questo video anche per oggi è tutto e noi ci vediamo un prossimo video ciao 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 ciao